Tutto è pronto a Cosenza, sulle rive del fiume Crati. Oggi, infatti, sarà inaugurato il nuovo ponte di Calatrava, il più alto d'Europa progettato dall'architetto e intitolato a San Francesco da Paola. Il pilone in acciaio è alto 104 metri e pesa 800 tonnellate. È solo la prima pietra di un più vasto progetto di riqualificazione urbana voluto dal sindaco Mario Chiuto, che ha già approvato la realizzazione del nuovo stadio della città e intanto è in fase di appalto anche il progetto per la navigabilità dei fiumi, un vero e proprio parco fluviale attrezzato che sarà l'ossatura portante delle reti ecologiche cittadine collegate al nuovo grande parco del benessere di prossima realizzazione. L'infrastruttura, comunque disegnata da Santiago Calatrava per Cosenza, è retta da piloni di sostegno e con i suoi 130 metri di ampiezza e l'imponente torre dei 104 metri di cui dicevamo prima, non delinea esclusivamente un collegamento da uno spon dall'altra del fiume Crati, dalla periferia al centro urbano, ma idealmente avvicina la città alle architetture delle più belle metropoli europee. La consegna dell'opera alla città verrà alle 18, alla presenza dell'architetto spagnolo, con un evento artistico unico la cui direzione è affidata a Valerio Festi, un evento che sarà trasmesso in diretta televisiva dalla nostra emittente.